Quattro volte contro il Brescia, quattro volte al tappeto, questa squadra quest'anno è proprio ingiocabile per la Grafistudio. Ma credo che al di là dei risultati siano state quattro partite comunque da noi giocate senza aspettarci niente, chiaramente loro sono una squadra fatta per vincere. Noi abbiamo fatto il nostro percorso quest'anno, non dico che non ci credavamo, però sarebbe stato bello sicuramente oggi completare con la vittoria, però abbiamo comunque concluso col sorriso perché credo che non si poteva chiedere di meglio. A proposito di conclusione, c'è stata questa premiazione un po' sui generi, un po' particolare che nessuno si aspettava, avete spiegato il motivo, quando c'è da combattere per qualcosa siete sempre compatte, no? Sì, siamo donne, siamo testarde, è stata una cosa improvvisata ma credo che sia proprio dalle cose che vengono fuori così che si vede comunque quando uno crede in qualcosa. È stata una cosa molto genuina, credo che si sia vista molta sportività e non è stato un gesto fatto per andare contro a qualcosa, ma è stato un gesto fatto proprio nel credere in qualcosa e quindi niente, era da fare così, è venuta così e basta. È una bella cosa alternativa che potrebbe essere valida anche a livello di fair play, no? Beh, sicuramente noi, magari la Supercoppa è stata un po' più amara da digerire, no? Perché comunque lì te l'ha rigiocata, era in vantaggio. Oggi io credo che se uno è sportivo e oggettivo non può fare altro che battere le mani e applaudire il Brescia. Il premiare è stato un doppio gesto, uno di fair play e l'altro di presa di posizione perché è giusto che certe figure che non credono in questo movimento possono stare lontane. Sì, tranquillamente.